Guerra, che parola! Diciamo che vorremmo semplicemente fare quello che si fa già in tutte le altre città del mondo, un po' di senso civico e un po' di rispetto delle regole. Mi sembra che questa misura dei tornelli abbia già stabilito un confine. Sono gli stessi passeggeri che hanno pagato il biglietto a in qualche modo arrabbiarsi con chi vuole tentare di salire facendo il furbetto. Stiamo recuperando un po' di senso civico. Se queste misure aiutano, ben venga, perché veramente ce n'è bisogno. La comunità, io credo che la costruzione di una comunità passi anche attraverso il rispetto di regole comuni e se le regole vengono fatte rispettare dalla comunità stessa, dai cittadini che si indignano quando vedono un loro pari sostanzialmente fare il furbetto, allora direi che è un grandissimo successo. Grazie.